Procedura civile, lezione numero 3. La competenza. Argomenti trattati in questa lezione. I criteri di competenza, la competenza per materia e valore, la competenza per territorio, la derogabilità delle regole di competenza, i regolamenti di competenza e la riassunzione della causa, le modifiche della competenza per ragioni di connessione, astensione e ricusazione, la litis pendenza, la continenza e la connessione. I criteri di competenza, la competenza per materia e valore. Le norme sulla competenza del giudice civile si basano sui criteri di materia, valore e territorio per distribuire il potere giurisdizionale tra i vari uffici giudiziari. Questi criteri garantiscono una corretta e adeguata distribuzione delle cause consentendo alle parti coinvolte di rivolgersi al giudice competente per la loro specifica controversia. Queste regole, stabilite all'articolo 5 del Codice di Procedura Civile, individuano la competenza tenendo conto del momento in cui viene proposta la domanda. In altre parole, la competenza del giudice per trattare una specifica controversia civile dipende dallo stato delle cose al momento in cui la domanda è formalmente presentata al Tribunale. Ad esempio, se una controversia è presentata davanti al Tribunale A, ma successivamente vengono introdotte nuove circostanze o elementi che cambiano la natura della causa, potrebbe essere necessario rivalutare la competenza del giudice. In questo caso potrebbe essere richiesta una nuova valutazione della competenza in base alle regole stabilite al momento della nuova presentazione della domanda o dei nuovi elementi introdotti. L'articolo 7 del Codice di Procedura Civile stabilisce tre criteri principali per determinare la competenza del giudice civile. Materia, valore e territorio. Il criterio della materia si riferisce all'oggetto della controversia e al rapporto giuridico che viene dedotto in giudizio. In base a questo criterio la competenza viene assegnata a un giudice specializzato nella specifica materia oggetto della controversia. Il criterio del valore, invece, riguarda la distribuzione delle cause tra i giudici in base al valore economico della lite. Il criterio del territorio individua la competenza in base alla sede geografica della controversia. Ciò significa che la causa deve essere presentata davanti al giudice competente per l'area geografica in cui si è verificato il fatto controverso o in cui risiedono le parti coinvolte. I primi due criteri, quindi il criterio di materia e valore, descrivono la competenza in senso verticale, distribuendo il potere giurisdizionale tra organi di diverso grado. Il terzo criterio, relativo al territorio, definisce la competenza in senso orizzontale, consentendo la distribuzione delle controversie sul territorio nazionale. Ciò significa che una controversia deve essere presentata davanti al giudice competente nella circoscrizione geografica in cui si trova la sede del tribunale o il luogo in cui si è verificato il fatto controverso. Il criterio di competenza per valore nel sistema giudiziario civile assume un ruolo residuale rispetto al criterio di competenza per materia. In sostanza, quando la legge non specifica la competenza in base alla materia, si applica il criterio del valore. ad esempio, per le controversie relative a beni immobili, la competenza spetta al tribunale. Per le controversie disciplinati dai numeri 1 e 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, indipendentemente dal valore della causa, è competente il giudice di pace. Il criterio di competenza per materia attribuisce invece alla Corte d'Appello un potere giurisdizionale in un unico grado. Ciò significa che alcune materie sono riservate alla competenza esclusiva della Corte d'Appello senza la possibilità di essere trattate da altri organi giudiziari di grado inferiore. È importante notare che la riforma cartabbia del 2023 ha modificato l'articolo 7,1 del codice di procedura civile, ampliando la competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni immobili. Il limite di valore per la competenza del giudice di pace è stato aumentato a 10.000 euro. In alcuni casi il criterio di competenza per materia può essere affiancato al criterio di competenza per valore. Ciò significa che per determinare il giudice competente è necessario considerare entrambi gli elementi ma con un limite massimo di valore specificato dalla legge. Ad esempio l'articolo 7,2 del codice di procedura civile, così come modificato dal decreto legislativo 149.22 riforma cartabbia, stabilisce che il giudice di pace è competente per le cause di risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli innatanti ma solo se il valore della causa non supera il limite di 25.000 euro. Il valore della causa è determinante per individuare il giudice competente e viene stabilito in base alla richiesta dell'attore senza alcuna preliminare verifica sulla sua fondatezza. Nel caso in cui nello stesso processo della stessa parte contro una sola controparte vengono presentate più domande, i loro valori vengono sommati insieme e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla presentazione della domanda vengono sommati al capitale. Così appunto l'articolo 10 del codice di procedura civile. Per le cause relative a somme di denaro o a beni mobili il valore viene determinato in base all'importo indicato o al valore dichiarato dall'attore. In mancanza di indicazioni o dichiarazioni si presume che la causa sia di competenza del giudice adito così come stabilisce l'articolo 14,1. Tuttavia il convenuto ha la possibilità di contestare il valore indicato o presunto solo nella sua prima difesa e in tal caso il giudice decide esclusivamente ai fini della competenza basandosi su quanto risulta dagli atti senza ulteriori approfondimenti. Se il convenuto non contesta il valore indicato o presunto esso rimane fissato per l'intero procedimento inclusi gli aspetti di merito entro i limiti della competenza del giudice adito. Per le cause relative a somme di denaro se l'attore indica il valore nella domanda e il convenuto non contesta tale indicazione ai fini della competenza nella sua prima difesa il valore rimane invariato. Tuttavia è possibile che alla fine del processo il giudice verifichi una diversa quantificazione della somma o respinga completamente la richiesta poiché non è possibile stabilire una quantificazione precisa della somma. Questo influisce solo sul merito della causa e non sulla competenza del giudice. Nelle cause relative a beni mobili il valore determinato ha rilevanza solamente per la competenza e non per il merito. Se il convenuto contesta il valore del bene nella sua prima difesa il giudice deve tenerne conto per stabilire la competenza. Se invece non viene contestato la questione del valore non sarà più esaminata poiché non ha alcuna importanza per il merito della causa. Per le cause relative a beni immobili l'articolo 15 del codice di procedura civile fornisce un criterio basato sul valore catastale dell'immobile per determinare il valore della causa. Tuttavia attualmente questa disposizione ha scarso significato poiché la competenza sui diritti reali relativi a beni immobili spetta esclusivamente al tribunale mentre il giudice di pace ha competenza solo per i beni mobili. Articolo 7 del codice di procedura civile. Il codice appunto di procedura civile fornisce anche criteri diversi per determinare il valore in controversie con oggetti specifici. per le cause relative a quote di obbligazione il valore della causa è determinato dall'intera obbligazione. Per le cause relative all'esistenza validità e risoluzione di un rapporto obbligatorio il valore si determina in base alla parte del rapporto oggetto di contestazione. Per le cause di divisione il valore si determina dalla massa attiva da dividere. Per le cause relative a prestazioni alimentari se il titolo è oggetto di contestazione il valore si determina in base all'importo dovuto per due anni. Per le cause relative a rendite perpetue il valore si determina sommando 20 annualità. Per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie si sommano le annualità richieste fino a un massimo di 10. Per le cause relative all'esecuzione forzata è necessario fare una distinzione. Per le opposizioni all'esecuzione il valore si determina in base al credito oggetto dell'esecuzione. Per le opposizioni di terzi il valore si determina in base al valore dei beni oggetto di contestazione. Per le controversie sorte durante la distribuzione il valore si determina in base al credito contestato di maggior importo. La competenza per territorio. Per determinare il giudice territorialmente competente vengono utilizzati due fori cosiddetti generali uno per le persone fisiche e uno per le persone giuridiche. Per le persone fisiche il giudice competente è di solito il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio. Se questi dati non sono noti si considera competente il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la dimora. In via residuale se nessuno di questi criteri si applica il giudice competente è quello del luogo in cui risiede l'attore. Per le persone giuridiche il giudice competente è quello del luogo in cui la persona giuridica ha la sede o uno stabilimento e ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Oltre ai fori generali esistono anche altri fori speciali che si applicano a determinate controversie. All'interno di questi fori speciali vi sono i fori facoltativi e i fori esclusivi. I fori facoltativi sono quelli in cui il foro speciale pensato per il tipo di controversia concorre con il foro generale. Ad esempio per le cause relative a diritti di obbligazione, oltre ai fori generali, la competenza può essere determinata anche in base al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. I fori esclusivi invece derogano in modo esclusivo ai fori generali senza ammettere alternative. Questi fori si applicano alle cause relative a diritti reali e azioni possessorie, alle cause ereditarie, alle controversie tra soci e condomini, alle cause relative alle gestioni tutelare e patrimoniali, alle cause in cui è coinvolta una pubblica amministrazione, al procedimento di esecuzione forzata e alle cause di opposizione all'esecuzione. La derogabilità delle regole di competenza. Ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura civile, la competenza non può essere modificata per accordo tra le parti, tranne che nei casi stabiliti dalla legge. Esiste quindi un principio generale di inderogabilità della competenza con alcune eccezioni specificamente previste. Le eccezioni si applicano solo alla competenza territoriale, il che implica che i criteri di competenza per materia e valore non possono essere modificati e o derogati. La competenza territoriale può essere derogata solo se la legge non lo vieta. L'articolo 28 del codice di procedura civile ammette in generale la possibilità di derogare la competenza territoriale mediante accordo tra le parti, ma elenca alcune materie in cui ciò non è possibile. Segnatamente non è possibile derogare la competenza territoriale per le cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, le cause di esecuzione forzata e relative opposizioni, i procedimenti cautelari e possessori, i procedimenti in camera di consiglio e ogni altro caso in cui l'inderogabilità si è espressamente prevista dalla legge, ad esempio nelle controversie di lavoro secondo l'articolo 413. Se è ammessa la deroga alla competenza territoriale, l'accordo deve riferirsi ad uno o più affari determinati e deve essere documentato per iscritto. L'accordo di deroga non conferisce al giudice designato una competenza esclusiva, a meno che non sia stato espressamente pattuito. Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza del giudice, il convenuto deve sollevare l'eccezione nella comparsa di risposta depositata tempestivamente almeno 20 giorni prima della prima udienza, altrimenti decade dal diritto di eccepire. Il giudice può invece sollevare l'eccezione d'ufficio entro la prima udienza, ma solo per l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile, come stabilito dall'articolo 38,3 del codice di procedura civile. L'eccezione di incompetenza può essere sollevata solo dal convenuto e non dall'attore, in base al principio di autorresponsabilità previsto dall'articolo 157,3. Per essere valida l'eccezione di incompetenza per territorio deve indicare il giudice ritenuto competente. Se tale indicazione manca, l'eccezione non viene considerata presentata. Se viene contestata l'incompetenza territoriale derogabile, l'indicazione del giudice ha lo scopo di favorire un eventuale accordo. Se le parti costituite accettano l'indicazione del giudice competente, la competenza del giudice indicato rimane valida se la causa viene riassunta entro tre mesi dalla sua cancellazione dal ruolo. Le questioni sollevate con l'eccezione di incompetenza vengono decise solo ai fini della competenza in base a quanto risulta dagli atti. Se necessario possono essere acquisite sommarie informazioni. La decisione sull'eccezione di incompetenza può essere presa con una sentenza o con una ordinanza, a secondo del suo contenuto. In particolare se il giudice pronuncia solo sulla competenza e non sul merito, emette un'ordinanza che può confermare o declinare la competenza. Se il giudice invece decide sia sulla competenza che sul merito, emette una sentenza. I regolamenti di competenza e la riassunzione della causa. Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione previsto dall'articolo 323 del codice di procedura civile che consente di contestare le decisioni sulla competenza e di presentarlo alla Corte di Cassazione come organo regolatore della competenza. La Corte si pronuncia sulle questioni di competenza e stabilisce la sua decisione. Va differenziato dal regolamento di giurisdizione che non è un mezzo di impugnazione ma un rimedio preventivo per la risoluzione delle questioni di giurisdizione. Esiste una distinzione tra un regolamento di competenza necessario e uno facoltativo. In realtà si tratta dello stesso mezzo con le stesse modalità di presentazione e la distinzione dipende solo dall'oggetto del provvedimento impugnato. Quando si impugna un'ordinanza che riguarda solo la competenza, il regolamento è definito necessario poiché rappresenta l'unico rimedio possibile. Quando invece si impugna una sentenza che decide sia sulla competenza che sul merito, il regolamento è considerato facoltativo perché è un rimedio alternativo agli altri rimedi ordinari come l'appello o il ricorso per Cassazione, a seconda che la sentenza impugnata sia di primo o di secondo grado. Spetta quindi alla parte soccombente, che ha il potere di impugnare, scegliere tra il regolamento o gli altri rimedi ordinari. Se l'impugnazione ordinaria viene presentata per prima per la questione di merito, le altre parti hanno comunque la possibilità di proporre un regolamento per contestare la questione di competenza, mantenendo comunque la possibilità di sollevare nuovamente la questione con l'impugnazione ordinaria. Quando l'istanza di regolamento è presentata prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per l'impugnazione riprendono dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento è invece presentata successivamente, il procedimento di impugnazione viene sospeso. Il regolamento è considerato necessario quando non ammette alternative, sia per pronunciarsi sulla lì di spendenza e continenza e connessione, sia per dichiarare la sospensione dei processi in base all'articolo 295 del codice di procedura civile, cosiddetta sospensione propria. Una volta dichiarata l'incompetenza del giudice adito, la causa deve essere riassunta davanti al giudice competente su richiesta di una delle parti entro il termine stabilito nell'ordinanza di incompetenza o entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il processo continua davanti al nuovo giudice, ma se la riassunzione non avviene entro i termini indicati, il processo si estingue. Una volta riassunta la causa, ci sono due ipotesi a seconda che l'incompetenza sia dichiarata per ragioni di valore o territorio derogabile, o per ragioni di materia o territorio inderogabile. Nell'ipotesi di valore o territorio derogabile, la competenza del nuovo giudice diventa incontestabile e non può essere ulteriormente contestata. Nell'ipotesi di materia o territorio inderogabile, una volta riassunta la causa davanti al giudice competente, se quest'ultimo ritiene di essere a sua volta incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza. Questo è chiamato conflitto di competenza e viene sottoposto alla Corte di Cassazione tramite il regolamento di competenza d'ufficio. La Corte di Cassazione decide sul conflitto di competenza. In questo caso, cioè se il nuovo giudice si ritiene incompetente, viene definito conflitto negativo. Il conflitto positivo di competenza, invece, si verifica in materia fallimentare quando più tribunali dichiarano il fallimento. In questo caso, il procedimento prosegue davanti al Tribunale che si è dichiarato per primo, mentre il Tribunale adito successivamente può proporre il regolamento di competenza d'ufficio ai sensi all'articolo 45 del Codice di Procedura Civile. L'istanza di regolamento di competenza deve essere presentata tramite lo strumento del ricorso, secondo le forme dell'articolo 47 del Codice di Procedura Civile. Il ricorso, firmato dal Procuratore o dalla parte, se costituita personalmente, deve essere notificato alle altre parti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso sulla competenza o dalla notifica dell'impugnazione ordinaria se si tratta di regolamento facoltativo esenzio dell'articolo 43,2. Secondo l'articolo 375, salvo i casi eccezionali in cui la questione di diritto è di particolare importanza e richiede una decisione in pubblica udienza, la Corte di Cassazione decide sull'istanza di regolamento di competenza con un'ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio. Con questa ordinanza la Corte adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice competente e fissa termini per le parti affinché provvedono alla loro difesa. Il rito camerale per la decisione delle istanze di regolamento di competenza è disciplinato all'articolo 381 bis 1 del Codice di Procedura Civile con richiamo all'articolo 380 ter riformato dalla riforma cartabile del 2023. I processi per i quali è richiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal momento in cui viene presentata l'istanza o dalla pronuncia che richiede il regolamento di competenza d'ufficio, ma comunque il giudice può, se lo ritiene, ordinare l'esecuzione degli atti urgenti. Il regolamento di competenza sia necessario che facoltativo non può essere utilizzato nei procedimenti davanti al giudice di pace, tuttavia il giudice di pace, secondo la giurisprudenza, può richiedere il regolamento di competenza d'ufficio. Le modifiche della competenza per ragioni di connessione. La sezione quarta del capo primo del libro primo del Codice di Procedura Civile disciplina le modificazioni della competenza per ragioni di connessione. Si tratta di ipotesi in cui gli ordinari criteri di competenza sono derogati per favorire la trattazione congiunta di più cause legate tra loro in cui tra esse vi siano più o meno stretti vincoli di connessione. Tali disposizioni sono importanti per la competenza e delineano i legami tra le domande proposte allo stesso giudice realizzando così il processo oggettivamente cumulato. I problemi di competenza erano più rilevanti quando la competenza verticale era distribuita tra giudice di pace, pretore e tribunale. Con la soppressione delle preture le questioni di competenza si sono ridotte. La regola generale stabilisce quando vi è connessione tra una causa di competenza del giudice di pace e una di competenza del tribunale prevale sempre la competenza del tribunale che attrae l'altra causa. L'articolo 31 del codice di procedura civile disciplina l'accessorietà ovvero nel caso in cui la domanda principale venga affiancata da una domanda accessoria. La domanda accessoria può essere presentata al giudice competente per la domanda principale purché si rispettino i limiti di competenza per valore stabiliti dall'articolo 10 del codice di procedura civile. È consentita la modifica della competenza territoriale per la domanda accessoria ma non è ammessa la modifica della competenza per valore o per materia. L'articolo 32 del codice di procedura civile tratta le cause di garanzia che possono essere distinte in garanzia propria e garanzia impropria. La garanzia si verifica quando per disposizione di legge o per un contratto un soggetto è obbligato a tutelare un altro soggetto dalle conseguenze di un determinato evento. La garanzia impropria invece non deriva dalla legge o dal contratto ma da una particolare situazione di fatto che collega il garante al garantito ad esempio nelle vendite a catena. All'interno della garanzia propria si distinguono due tipi la garanzia formale e la garanzia semplice. La garanzia formale impone al garante non solo di tutelare il garantito sul piano sostanziale ma anche di difenderlo in sede processuale. La garanzia semplice invece in questo caso l'obbligo riguarda solo il piano sostanziale e non la difesa processuale. L'articolo 32 del codice di procedura civile consente che la domanda di garanzia sia presentata al giudice della causa principale affinché venga decisa nello stesso processo. Tuttavia se la causa di garanzia supera la competenza per valore del giudice dito quest'ultimo rimetterà entrambe le cause al giudice superiore affinché siano entrambe decise in un unico processo assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. L'articolo 33 disciplina il cumulo soggettivo che si verifica quando una parte propone più cause contro più persone. In base agli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile tali cause dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi. Tuttavia se le cause sono connesse per oggetto o per titolo è possibile presentarle davanti al giudice competente per il luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti al fine di essere decise nello stesso processo. In questo caso lo spostamento di competenza è consentito solo per quanto riguarda la competenza territoriale e secondo la giurisprudenza i criteri degli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile possono essere derogati. L'articolo 34 invece disciplina gli accertamenti incidentali nel contesto della connessione per pregiudizialità o dipendenza tra cause. Gli accertamenti incidentali sono strumenti processuali che consentono al giudice di decidere questioni pregiudiziali che sorgono all'interno di un processo già in corso con efficacia di giudicato. Una questione pregiudiziale è una questione che deve essere risolta pregiudizialmente rispetto alla questione principale del processo. In pratica è una questione che deve essere decisa prima della questione principale poiché la sua soluzione influisce direttamente su quest'ultima. L'articolo 34 del codice di procedura civile stabilisce che se una questione pregiudiziale è emersa durante il corso di un processo il giudice può decidere su di essa con efficacia di giudicato all'interno dello stesso processo anche se potrebbe essere oggetto di un processo autonomo separato. Questa possibilità è prevista al fine di favorire il simultaneous processus ovvero la decisione congiunta delle questioni pregiudiziali e principali nello stesso processo evitando la duplicazione dei procedimenti e risparmiando tempo e risorse. Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio il concetto. Supponiamo che ci sia una causa in cui una persona sta chiedendo il risarcimento danni a un'altra persona per un incidente stradale. La questione pregiudiziale potrebbe essere la determinazione della responsabilità dell'incidente ad esempio se il conducente era effettivamente ubriaco al momento dell'incidente. Poiché questa questione è essenziale per la decisione sulla richiesta di risarcimento danni il giudice può decidere su di essa all'interno dello stesso processo prima di affrontare la questione principale dell'isarcimento danni. L'articolo 34 del codice di procedura civile solleva diversi interrogativi che riguardano la questione pregiudiziale che deve essere sempre e che deve sempre essere esaminata dal giudice ma che può anche comportare una decisione con efficacia di giudicato. Tuttavia finché ciò avvenga la legge stessa deve prevedere tale possibilità o una delle parti deve formulare una specifica richiesta in tal senso. In mancanza di tali elementi la questione pregiudiziale sarà comunque esaminata dal giudice ma senza che la sua decisione abbia valore di giudicato ovvero senza che vincoli altri giudici chiamati a pronunciarsi sul medesimo tema. Un altro aspetto rilevante riguarda le questioni incidentali su cui il giudice deve adottare una decisione vincolante idonea a formare giudicato. Qui sorgono le problematiche relative alla competenza. Se la questione pregiudiziale rientra nella competenza di un giudice superiore per materia o valore il giudice di grado inferiore cui è stata presentata la causa principale deve rinviare l'intera controversia al giudice superiore fissando un termine perentorio entro il quale le parti possono ripresentare il caso dinanzi a lui. L'articolo 35 introduce il concetto di compensazione nel diritto processuale civile definendo diverse situazioni in cui il controcredito dedotto in compensazione supera l'importo della domanda iniziale. La norma distingue due ipotesi quando il controcredito non viene contestato dall'attore o quando il controcredito è oggetto di contestazione. Nel primo caso il controcredito viene utilizzato come eccezione solo per limitare la domanda dell'attore senza condannarlo al pagamento dell'eccedenza. Nel secondo caso l'articolo 35 affronta la questione di quando il controcredito posto in compensazione supera la competenza per valore del giudice competente. Nell'ipotesi B, e cioè quando il controcredito è oggetto di contestazione, sono due le situazioni da distinguere. La prima situazione, se la domanda si basa su un titolo non controverso o facilmente accertabile, il giudice decide sulla domanda e rimette la questione della compensazione al giudice competente per l'eccezione di compensazione. Questa forma è nota come condanna con riserva di eccezioni poiché il giudice emette una condanna riservandosi di esaminare successivamente l'eccezione di compensazione. Seconda situazione, se la domanda è controversa e richiede un accertamento non facile. Il giudice in questo caso procede come previsto dall'articolo 34 rimettendo sia la causa sul credito opposto in compensazione, sia la causa originale dell'attore al giudice competente. L'articolo 36 affronta invece il tema della causa riconvenzionale, che si configura quando all'interno di un processo già in corso una parte presenta una controdomanda contro l'altra parte già presente nel processo. La domanda proposta da una parte nei confronti di un terzo dal luogo alla chiamata in causa. Anche in questo caso la legge ammette la possibilità di spostare la competenza al fine di favorire un processo simultaneo. Il giudice competente per la causa principale ha giurisdizione anche sulla domanda riconvenzionale, che dipende dal titolo presentato in giudizio dall'attore, che solitamente è il fatto costitutivo, oppure o da quello che già fa parte del processo come eccezione e quindi da un fatto dedotto come eccezione, come modificativo, impeditivo o estintivo. Tuttavia tale competenza è valida solo se la domanda riconvenzionale rientra nella competenza del giudice in termini di materia o valore. Altrimenti, se la domanda esce dalla competenza del giudice adito, quest'ultimo rimette l'intera causa al giudice superiore. Se la domanda si basa su un titolo non controverso o facilmente accertabile, il giudice decide sulla domanda principale e rimette al giudice superiore la questione della domanda riconvenzionale. Astenzione e ricusazione. Nel processo civile, una volta identificato l'ufficio giudiziario competente tramite le regole sulla giurisdizione e sulla competenza, si procede alla designazione del giudice responsabile dell'istruttoria e della decisione della causa. Questo giudice può agire in forma monocratica o collegiale, a seconda delle circostanze. È fondamentale che il giudice sia terzo e imparziale, come stabilito dall'articolo 111,2 della Costituzione. Al fine di garantire il rispetto di tali requisiti, esiste l'istituto dell'astenzione e della ricusazione disciplinati dall'articolo 51 e seguenti del codice di procedura civile. L'astenzione si verifica quando il giudice decide di non intervenire nel caso di presenza di ragioni di incompatibilità. Questa astenzione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle disposizioni previste dall'articolo 51. L'astenzione obbligatoria si applica in situazioni specificamente elencate nell'articolo 51,1 anche se queste disposizioni possono essere interpretate in modo flessibile e talvolta estensivo. In particolare il giudice ha l'obbligo di astenersi in determinate circostanze. Queste includono se ha un interesse personale nella causa, se lui stesso o il suo coniuge sono parenti fino al quarto grado o hanno legami di affiliazione, convivenza o frequentazione abituale con una delle parti o con uno dei difensori, se lui stesso o il suo coniuge hanno una causa pendente, un conflitto personale grave o rapporti di credito o debito con una delle parti o con uno dei difensori, se ha fornito consulenza legale o assistenza come testimone nella causa o ha avuto coinvolgimento come magistrato in un'altra fase del processo, come arbitro o come consulente tecnico. Questa circostanza è stata riconosciuta come una situazione che attribuisce rilevanza costituzionale al principio dell'imparzialità del giudice, ma anche se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti. L'astenzione facoltativa, invece, può avvenire per gravi ragioni di convenienza. In quest'ultimo caso il giudice può richiedere l'autorizzazione al capo dell'ufficio per astenersi. L'articolo 52,1 del codice di procedura civile disciplina invece il procedimento di ricusazione. Secondo questa disposizione, la ricusazione si verifica quando le parti coinvolte nel processo richiedono la sostituzione del giudice designato. Il comma 1 dell'articolo 52 dispone che la ricusazione si avvia mediante un ricorso il quale deve contenere i motivi specifici ed i mezzi di prova. Ciò significa che il ricorso presentato dalle parti deve chiaramente indicare le ragioni specifiche per cui viene richiesta la sostituzione del giudice e deve essere supportato da mezzi di prova idonei a sostenere tali ragioni. Il ricorso di ricusazione deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale o del giudice competente due giorni prima dell'udienza. Questo termine può variare se al ricorrente è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa. Nel caso in cui il ricorrente non conosca i nomi dei giudici, il ricorso deve essere depositato prima dell'inizio della trattazione o discussione del caso. Il procedimento di ricusazione sospende il processo in corso poiché la richiesta di sostituzione del giudice influisce direttamente sulla regolarità del procedimento stesso. La decisione sulla ricusazione avviene mediante un'ordinanza che sarà emessa dal giudice competente a decidere sulla ricusazione. Se il giudice di pace viene ricusato la decisione spetta al presidente del tribunale. Se uno dei membri del tribunale o della corte d'appello viene riusato la competenza è del collegio. Questa ordinanza non è impugnabile né ricorribile per Cassazione. Se il ricorso viene accolto l'ordinanza stabilirà la sostituzione del giudice. In caso di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza l'ordinanza può anche prevedere la liquidazione delle spese sostenute nel procedimento di ricusazione e imporre una pena pecuniaria alla parte che ha presentato il ricorso se ritenuta appropriata. Parliamo ora di litis pendenza. La litis pendenza ha due significati distinti ma correlati. Indica innanzitutto la pendenza del processo e la sua attualità. Questo implica che a partire dalla presentazione della domanda giudiziale il processo produce determinati effetti sia sul diritto controverso sia sul processo stesso, i cosiddetti effetti sostanziali e processuali della domanda. E l'altro significato la litis pendenza descrive la situazione in cui la stessa causa è pendente davanti a giudici diversi. Focalizzandoci sulla su questa seconda accezione l'articolo 39 del codice di procedura civile stabilisce che se la stessa causa viene proposta davanti a giudici diversi il giudice successivamente adito a qualsiasi stato e grado del processo deve dichiarare la litis pendenza con un'ordinanza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Pertanto affinché si possa parlare di litis pendenza ai sensi dell'articolo 39 è necessario che la stessa causa o due cause identiche sia pendente o siano pendenti davanti a giudici diversi. L'identità delle cause implica la corrispondenza tra le parti coinvolte, l'oggetto della controversia, quindi il petitum, e il fondamento della domanda, quindi la causa pedendi. L'articolo 39 del codice di procedura civile richiede che la stessa causa sia pendente davanti a giudici diversi intendendo con ciò due diversi uffici giudiziari. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disciplina dell'articolo 39 si applica anche se la causa pende davanti a giudici di grado diverso superando un precedente contrasto, così le sezioni unite 27846 del 2013. Tuttavia se più procedimenti sono pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario si applica l'articolo 273 che prevede l'obbligo del giudice di disporre la riunione dei procedimenti. Nel caso in cui siano presenti i presupposti dell'articolo 39 e cioè la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito, in qualsiasi stato e grado del processo, deve dichiarare con un'ordinanza la litis pendenza e ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. Questa ordinanza è impugnabile solo tramite regolamento di competenza necessario ai sensi dell'articolo 42. Per determinare quale sia il giudice preventivamente a dito e quello successivamente a dito, come si fa? Nei processi avviati mediante citazione si fa riferimento alla notificazione della citazione, mentre nei processi avviati mediante ricorso si fa riferimento al suo deposito in cancelleria. L'obiettivo della norma surali di spendenza dunque è quello di evitare la duplicazione di procedimenti giudiziari e assicurare l'efficienza e l'unità decisionale del sistema giurisdizionale. La dichiarazione di litis pendenza impedisce che più giudici si pronunciano sulla stessa causa, garantendo la concentrazione del processo presso un unico tribunale competente. Parliamo adesso della continenza. La continenza è quella situazione in cui due cause sono pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, coinvolgendo le stesse parti, ma presentando alcuni elementi in comune e differenze che impediscono di considerarle identiche. Perché si possa parlare di continenza, è necessario che le cause presentino una coincidenza parziale nell'oggetto e nel titolo. Ciò significa che vi sono questioni sollevate in una causa che costituiscono il presupposto logico-giuridico necessario per definire l'altra causa o che sono in tutto e in parte comuni alla decisione di entrambe. Le domande nelle due cause devono avere origine dello stesso rapporto negoziale e risultare interdipendenti o contrapposte, in modo che la soluzione di una causa influisca sull'altra. Si distinguono due tipi di continenza, la continenza in senso stretto e la continenza per specularità. La continenza in senso stretto si verifica quando due cause hanno identità di soggetti e di causa petendi, ma presentano una differenza quantitativa nel petitum, ossia nell'entità della richiesta avanzata. La continenza invece per specularità si verifica quando le questioni sollevate in una causa sono logicamente necessarie per definire l'altra causa, oppure sono in tutto e in parte comuni alla decisione di entrambe. La finalità della continenza è evitare decisioni contrastanti e incoerenti su questioni strettamente connesse tra loro, garantendo una giustizia uniforme e coerente. Quando si riscontra la continenza tra due cause, il giudice competente deve dichiararla attraverso un'ordinanza in cui stabilisce che le due cause pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi sono effettivamente collegate da una relazione di continenza. Se il giudice preventivamente adito è competente anche per la seconda causa successivamente proposta, spetta a lui dichiarare la continenza e fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti a lui. Diversamente, se il giudice preventivamente adito non è competente per la seconda causa, sarà quest'ultimo a emettere l'ordinanza di continenza e a fissare il termine. Nell'ordinanza il giudice esaminerà gli elementi comuni e le differenze tra le due cause, valutando se sussistono i requisiti per ritenere che le cause siano collegate da una continenza. Questi requisiti possono includere la coincidenza parziale delle cause pedendi, il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione di una causa nell'altra, la dipendenza reciproca delle domande o la loro contrapposizione. Una volta constatata la continenza, il giudice può anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti coinvolte devono riassumere la causa davanti al primo giudice adito. In alternativa, se il giudice preventivamente adito non è competente anche per la causa successiva, sarà lui stesso a emettere l'ordinanza di continenza e a fissare il termine. L'ordinanza che dichiara la continenza è un provvedimento impugnabile, ma può essere impugnata solamente con il regolamento di competenza, ovvero attraverso un ricorso finalizzato a contestare la decisione del giudice in merito alla competenza tra i diversi tribunali coinvolti. Parliamo ora della connessione, l'ultimo argomento di questa lezione. L'articolo 40 disciplina l'ipotesi in cui più cause, inizialmente proposte davanti a giudici diversi o uffici giudiziari distinti, risultino connesse tra loro. Tale disposizione mira a favorire lo svolgimento del simultaneus processus, consentendo una gestione unitaria delle cause e promuovendo l'efficienza del sistema processuale. La razio, sottesa all'articolo 40, è analoga a quella che giustifica la modifica delle norme sulla competenza per ragioni di connessione, con la differenza che in questo caso le domande sono state originalmente proposte davanti a giudici diversi e successivamente riunite a seguito di riassunzione. L'articolo 40 si applica esclusivamente nel caso in cui le cause connesse pennano davanti a giudici diversi. Se le cause pennano davanti allo stesso giudice o medesimo ufficio giudiziario, si applica l'articolo 274, che prevede che il giudice dito, anche d'ufficio, disponga la riunione delle cause connesse. Nel caso in cui siano state proposte davanti a giudici diversi più cause che, per ragioni di connessione, possono essere decise in un unico processo, l'articolo 40 stabilisce che il giudice emetta un'ordinanza che fissa alle parti un termine perentorio per la riassunzione. Tale riassunzione avviene nel senso che la causa accessoria viene riassunta davanti al giudice della causa principale. Nei casi diversi opera il criterio della prevenzione di quell'articolo 39,3. È importante notare che la connessione può essere rilevata d'ufficio, ma in ogni caso, anche quando viene sollevata su istanza di parte, non può avvenire oltre la prima udienza. Inoltre, la rimessione delle cause connesse non può essere pronunciata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 disciplinano la gestione delle cause connesse che devono essere trattate con riti diversi. Di norma prevale sempre il rito ordinario rispetto a quello speciale, al quale dovrebbe essere sottoposta una delle cause connesse, a meno che non si tratti di una causa di lavoro o previdenziale. In quest'ultimo caso il rito lavoro prevale sul rito ordinario. È importante notare che la riforma cartabile 2023 ha modificato il terzo comma dell'articolo 40, stabilendo che in caso di connessione ai sensi di articoli 31, 32, 34, 35 e 36, tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta al rito speciale diverso da quello previsto nel primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione, che poi questo rito lo vedremo nel proseguo. Nel caso in cui sia necessaria la conversione del rito, essa avverrà secondo le norme che disciplinano la conversione nel rito lavoro, ossia gli articoli 426, 27 e 439. Nel caso in cui le cause connesse siano soggette a diversi riti speciali, si applica la regola secondo cui prevale, per la trattazione e la decisione, il rito stabilito per quella causa che determina la competenza, oppure in via subordinata, il rito previsto per la causa di maggior valore. Questo principio è disciplinato dal comma 4 dell'articolo 40 del codice di procedura civile. La connessione si distingue altresi in connessione forte e connessione debole. La connessione forte è disciplinata agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 del codice di rito, la quale si verifica quando le cause connesse sono strettamente correlate tra loro per una serie di motivi specifici. Questi motivi possono includere la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra le cause, l'interconnessione degli oggetti e le domande o la necessità di evitare decisioni contrastanti. La connessione debole, invece, è disciplinata dall'articolo 33, la quale si verifica quando le cause connesse non soddisfano i requisiti di connessione forte, ma presentano comunque una qualche forma di legame o affinità tra loro. Questo tipo di connessione può riguardare, ad esempio, le cause proposte dalle stesse parti contro diversi convenuti o le cause aventi oggetto simile. A differenza della connessione forte, la connessione debole non richiede la riunione delle cause davanti a un unico giudice, ma rimane una questione che può essere valutata e gestita caso per caso, lasciando un certo grado di discrezionalità al giudice nella loro trattazione. Gli ultimi due commis, il 7 e l'articolo 40, si occupano dei casi in cui sussiste una connessione tra cause che rientrano nella competenza del giudice di pace e altre che rientrano nella competenza del tribunale. Nel caso in cui una causa di competenza del giudice di pace risulti connessa a una causa di competenza del tribunale e questa connessione sia di tipo forte, è possibile proporre entrambe le domande davanti al tribunale affinché siano decise nello stesso processo. Qualora invece le cause connesse siano già pendenti rispettivamente al giudice di pace davanti al tribunale, naturalmente il giudice di pace ha l'obbligo di dichiarare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale come stabilito dal comma 7 e l'articolo 40.